Come eseguire un test diagnostico dell'unità disco rigido? Testare le unità disco rigido del computer utilizzando HP PC Hardware Diagnostics UEFI. I test diagnostici dell'hardware includono un test rapido e un test completo. Per testare l'unità disco rigido, provare innanzitutto il test rapido. Questo processo può richiedere circa dieci minuti. Se necessario, collegare l'adattatore CA al computer. Dopo aver spento il computer, premere il pulsante di accensione, quindi premere immediatamente e ripetutamente il tasto F2 finché non si apre Diagnostics UEFI. Selezionare Test dei componenti, quindi selezionare Unità disco rigido e poi Test rapido. Selezionare Esegui una volta. Se il computer dispone di più di una unità disco rigido, selezionare Testare tutte le unità disco rigido o selezionare l'unità disco rigido da testare. Se l'unità disco rigido supera il test rapido, ma si riscontrano ancora problemi e il test rapido non rileva alcun problema, eseguire il test completo. Questo processo può richiedere fino a due ore. Selezionare Menu principale, quindi selezionare Test dei componenti. Selezionare Unità disco rigido, quindi selezionare Test completo. Selezionare Esegui una volta. Se il computer dispone di più di una unità disco rigido, selezionare Testare tutte le unità disco rigido o l'unità disco rigido da testare. L'avanzamento del test viene mostrato sullo schermo. Se si ottiene un errore come risultato, annotare l'ID dell'errore a 24 cifre, quindi contattare il servizio di assistenza clienti HP. I risultati del test sono inoltre reperibili nei registri di test nel menu principale di UEFI.